bastante step! basta step! basta step! e ragazzi come va? Io sono Feri Niki E sono Steph Che stiamo qui con il primo episodio in assoluto di Gesù A tema Come potete notare Siamo su Game of Thrones Ma nessuno l'ha capito dal nostro pre-intro Ma certo che l'hanno capito Non si notava In ogni caso Quella era la sigla personalizzata Fatta da Steph Basta Steph E quest'oggi Non lo ricordare Steph Se lo sono dimenticato in questo momento Nessuno la dimenticherà mai Guarda ti taggeranno nel video su Instagram Dove io la canto Sì con loro che piangono però Ma è vero In ogni caso Quest'oggi vogliamo provare Appunto a fare un video Di Gesù a tema Cosa vuol dire a tema? Vuol dire che la mappa È a tema Game of Thrones Siamo Feri Nella Fortezza Rossa Giusto? Esatto Proprio dove c'è il trono Dove c'entrano le spade Per intenderci Abbiamo soltanto dei personaggi Di Game of Thrones Non ce ne sono tantissimi Ma sono fatti Purtroppo sono molto pochi Davvero bene Ben dettagliati Sono super mega fighi E quindi quest'oggi Giocheremo a Gesù Con i personaggi di Game of Thrones E sarà davvero divertente Perché abbiamo anche Alcune abilità nuove E particolari Dove sei? In giro Grazie Non lo sapevo Allora Non so se mi troverai È grande questa mappa È giustamente Una fortezza Quindi certo che è grande Grande, alta e mestosa Però secondo me Tu dato che siamo All'inizio di questo video Sei attratta dal trono di spade Perché è una di quelle cose Che ti attrae Io lo vorrei Vero? Vorrei essere come Daenerys Con tre draghi dietro Ho capito? Sarebbe il mio sogno È conquistare il mondo Io mi ci vedo bene Nel nano dei Lannister Non so bene perché Ma mi è sempre sembrato In Trarion perché? Non lo so Mi sento molto lui Come personaggio Perché lui è molto strategico Molto intelligente Ti ci vedo Ti ci vedo Però sono molto alto Io vabbè I draghi a sputtare fuoco Pure io insieme ai draghi Tutto fuoco Allora Fede sei nella zona del trono O sei molto distante Fammi capire No non so molto distante Però sono in giro Ok quindi mi stessimo capire Che non sei proprio lì insomma Fede voglio un indizio E lo voglio A tema te lo filmo Ok dato che siamo Tutto a tema Facciamo anche l'indizio a tema Allora ti do l'indizio Guarda più bello E formidabile del mondo Ok Sono morto Sei morto Eh no Aspetta 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 Su Game of Thrones Non è un buon indizio Però Perché Allora Tanti personaggi Lei è morta E quindi è già una Non ti dico neanche Chi sto indicando E a chi sto pensando Eh lo so Poi abbiamo Lui Che è morto Ok E mi sa che ce n'è pure Un terzo morto Tra quelli che abbiamo O sono solo due i morti Eh Sai che non lo so Non li ho contati Steph Non ti so dire Non ti so dire Però Secondo me io so chi sei Chi sono? Allora Ma non è che so chi sei Basta So quale sei Ok Vai Mi sa che hai sbagliato Steph Mi sa che hai sbagliato Ah non è possibile Stava lì seduta Da 72 ore E ogni tanto si stanca E poi però Dopo che gli sparo Se ne vanno Si spaventano E scappano via Si 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 Ti appendono Però non è giusto Ti ho praticamente detto Chi ero Scusami eh Facciamo che Steph non sei bravo Qui a tema Game of Thrones No Mi mette un po' Stai perdendo Le tue abilità di cercatore Le stai perdendo Sai che cos'è? La mappa È molto più complicata Di quel che sembra Non so Se il fatto che è chiusa Io l'ho girozzolata un po' Prima di prepararla Quindi Diciamo che riesco ad ambientarmi Non è troppo Io sono Devo dire che sono in difficoltà Fere In ogni caso Quel round l'hai più vinto tu Che vinto io Dato che mancavano 8 secondi E mi dato Fin troppi indizi Ecco poi Ti ho seguito per tanto tempo Steph Ti ho seguito per tanto tempo Buona sapersi Fere Grazie Finalmente sono io a nascondermi Allora io lo so già chi sei Chi sono? Secondo me hai scelto Il tuo personaggio preferito Che è morto anche quello Perché anche a te piaceva tantissimo Questa attrice Ok Secondo me sei lei No Come si chiama Fere? No no Non te lo dico Perché non voglio Allora non voglio darti troppi indizi Anche se secondo me Le hai già capito Si è già capito Però secondo me Di il nome Dai prova a dire il nome Dai lo sapevo Lo sapevo Ho cercato subito Ma dai Emplodi Steph Sei banale Lo sapevo che vestisci il trotto Alla tua preferita Lo sapevo Infatti poi Steph Ci è rimasto anche malissimo Quando è morto Vabbè stiamo tirando troppi spoiler Però Vero? Sei rimasto male Steph Sei la madre dei draghi Fere No E sei questa qua Questa in particolare Fere girati No non sono io Steph Se non sei tu girati Non sono io Steph Mi dispi E te l'ho detto Non sono io Quindi non so cosa stai chiamando Io mi sa che le sparo una mano Allora in realtà Ero Ero Daenerys Però ho cambiato schifo Appena l'ho detto Eh oh Non mi avresti scoperto Donnazione Ho fatto finta di niente Non ho cambiato Donnazione Però tu sei ferma In questo momento No sto camminando No 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 È che noioso che Se ti dico che sto camminando Sto camminando Voglio indovinare chi sei adesso Allora se non la smetti Vado a nascondermi in qualche posto strano Sei Ramsey No No ero prima scusa Che cosa devo fare tutti i round così È perché l'hai cambiato Ti sto dicendo di non farmi arrabbiare che vado in qualche posto strano No Fere Ci sono troppi angolini dove nascondersi in questa mappa Perché noi siamo allora in questa zona abbastanza delimitata Però questo castello è enorme Per me è una fortezza gigantissima Quindi guarda me ne vado tipo in libri Vado in libreria No No Fere La libreria E mi nascondo tra gli scaffali e non mi vedi più Allora Che dici Ho capito chi sei almeno È già una cosa positiva Sei Cersei No Sì 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 E allora sei Jon Snow Povero Non lo capisci mai Sei proprio scherzo Oggi non lo so È un periodo che non sei in forma Il fatto che il posto è chiuso Mi dà fastidio Non so perché Balliamo Dance party Vai Stan Me ne vado ballando Oddio Stan Guarda adesso ce l'ho io Ora la premo Anche perché guarda Ballano tutti Guarda il mio schermo Aspetta aspetta Guarda il mio schermo No Ma perché Io non ho notato Vabbè ce l'ho solo io in quel momento Vai ballare tutti Quindi È una follia assoluta È troppo bella come cosa Fere mi ha fatto arrabbiare E adesso Io mi nascondo In maniera Molto Cattiva Questo lo dici tu Ma questo non so Dove porta Non ti perdere Stef Fere c'è molto buio qui Non vedo nulla Allora dove sei finito Non sapevo fosse disponibile Sto posto Ma quanto è bella Sta mappa Però voglio andare In un punto dove c'è un po' di luce Tipo Qua Ah sì Dai Almeno qua c'è luce Perfetto Non voglio stare al buio Ah Guarda mi prendo L'aria fresca finalmente Tutto questo stare Al chiuso Non mi piace Dove sei andato E adesso mi sono nascosto Allora Fere Sono entrato Nel Diciamo Nei meandri Del castello Ok E sono finito In una Diciamo In una stanza Dove c'erano delle statue Gigantesche Non so Se è presente Quella stanza Questo è un po' Il mio indizio Qua io vedo Una statua grande Eh ma mi sa che erano Tipo quattro in cerchio Una sorta di No 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 Allora Mi ricordo la zona Cioè nel senso che Una volta ci sono capitata Ma non ho la più Pall'idea di come ci si torni Ok bene così Perché continuo a perdermi parecchio Sembra più un labirinto Questo Vabbè in ogni caso Se trovi quel posto Prevalentemente Trovi anche a me Nel senso sono nascosto In quella stanza Mi impegnerò a trovare Questa stanza è abbastanza grande Eh quindi Eh lo so Vedremo se comunque Poi mi trovi Tutte stanze belle grandi Fai andare addirittura Allì in alto Sarebbe bellissimo Allora io ho appena trovato Quattro statue giganti Proprio qui di fronte a me Quindi devo cercare Uno step Fere Fai una mossa Tra saltare E abbassarti E hai saltato Hai saltato di nuovo Allora Vediamo un pochettino Comunque i consolini Sono riuscito a fare Quello che stavo pensando di fare Quindi In questo momento Sono ancora più introvabile Rispetto a prima E forse posso esserlo Ancora di più Però Uh Sì che posso Ah secondo me Sì che posso Signori Ho già capito Vai Ti sei tipo infilato Qui dentro Dove Fere? Allora Perché tu stavi parlando Di posti bui E qui c'è un posto Molto buio Riesco a salirci Secondo me ti trovo Vediamo un pochettino Ok ok Va bene Va bene Va bene Allora Visto che mancano tre minuti E sto facendo una cosa Molto cattiva Ti do un indizio Pesante No non mi serve Sicura? Sì Sicura Mi serve perché ti trovo Adesso Ma non mi trovi eh Sì che ti trovo Cioè sei ancora nella zona Delle statue No no ti trovo Tranquillo Tu zitto Non ti preoccupare Fere Così mi metti ansia Ho paura che mi arrivi da dietro Ti trovo Non ti preoccupare Fere stai calma Allora io un po' di problemi Perché sto salendo in posti strani Salendo? Allora tu qua mi vedevi Quindi tu puoi essere qui sotto Fere Brutto disgraziato Hai trovato le scale? Sì ne ho trovate due di scale No Sono salita Prima un piano E poi anche un altro Ma Fere Sicuramente C'è l'altro ancora No Steph Steph ti odio Cioè continuo a trovare strade Ogni dove In ogni angolo dove sei Non ci sono più scale Fere Non ci sono più scale Fere no Ho vinto Come ho visto le scale Io non ho più Neanche avuto bisogno di controllare Il resto della stanza Perché sapevo Che tu tanto ti eri infilato In qualche cunicolo strano Allora Voglio chiarire una cosa Chi cerca ha la torcia A differenza mia Quindi ha visto più facilmente Le scale Perché dal mio schermo Non si notavano A dire la verità Io ho messo la torcia Solo dopo aver salito le scale Perché in alto è troppo buio Però le avevo già viste Uffa Capito? Quindi le avevo già viste Steph mi sono nascosta Ok E ho fatto uno scondiglio Più bello del tuo Più bello del mio Beh oggi non ci vuole molto Devo essere sincero Tutta la vita Allora dammi un indizio Devo dire una cosa Quando stavamo preparando la mappa Questo nascondiglio Mi ha fatto vedere Luca Ok Mi ringrazio Luca Per avermi consigliato Il nascondiglio più malefico Di tutti Gesù E forse anche di tutti I nascondigli Però non vale Fere Sì 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 Allora io il mio consigliere è Luca Se tu non è un consigliere Colpa tua Colpa tua Ma perché io di certo Non ne ho bisogno Però questo periodo Non so bene che cosa ho Ma sono fuori forma Che magari ti fa sembrare Un po' fiacco Che dici? Non può essere Può essere Può essere Poi mi tratti sempre male Piano piano sono sempre più triste Ti tratti male anche d'inverno Quindi non c'entra male Eh ma capito Accumulo tristezze Quindi vado fuori forma Fere Mi dovresti provare a trattare bene Per un episodio Non ci vuoi provare? Secondo me si apre un buco nero Nell'universo E verremo tutti risultati Non i consulini Perché non può più usare Mi dai un indizio Fere? Mi dai un indizio? Allora sono nella libreria Ma anche questo è un indizio Che non ti servirà a nulla Stef Cioè scherzi Non ti serve a nulla Probabilmente non so dove è la libreria Quindi è già un tutto dire Ma tu non sai mai nulla Eh Fere Solo tu ti sei provata la mappa Allora sono talmente sicuro Del mio nascondiglio Che se ti do degli indizio No no adesso Alla libreria ci arrivo da sola Fai un attimo di silenzio Allora da qua Mi sa che stai sbagliando Uh buongiorno Sono tornato alla stanza delle statue Fere Mi sa No aspetta È un corridoio che non Uh Eccola lì È questa? Nella libreria Sì sì Ma davvero ci sono aiutato? Sì bravo Fere Ma è a due piani ed è gigante Esatto Trovami Ho 4 minuti e 30 Vai Stef Fere Tanti 4 minuti Muoviti È proprio Tu pensi di essere totalmente nascosta? Sì sì Cioè secondo me anche se vieni qui non mi trovi Davvero? Lo dico Quasi sì Com'è possibile? Eh un bel nascondiglio Allora 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 Cosa potrebbe essere? Cioè io non vedo chissà quei nascondigli Vedo dove salire di sopra Ma sarebbe banale Cioè non mi vanterrei di essermi Diciamo nascosto di sopra e basta Quindi evidentemente c'è qualcos'altro Perché ridi Fere? Così perché mi fai ridere tu Allora siccome ci sono nuove abilità Cos'è il ding? Cioè cosa succede se ve lo premo? Ma mi sa che suona una campanella Prima che ti faccio sentire dove sono Non ho idea Prova a premere il ding Prova Fere cosa è successo? Che è successo? Stavo volando Mi hai fatto fluttuare Ho toccato il soffitto E poi sono caduto Allora A me non è successo nulla E siccome sono nascosta Non ho visto te fluttuare Ok Vabbè Non usare mai più il ding Fere Allora ricordiamoci che il ding Non è un ding Ma è un fluttuamento Non so perché Me lo chiami ding Allora Il suono strano Visto che sei tanto sicura Piano di sopra O piano terra Allora sono al piano di sopra Sicura? Sì Tu dove sei? Al piano di sopra Ok Ma sei sicura Di essere al piano di sopra Fere? No guarda Ho inciampato Sono caduto in terra Eeeh Può essere Magari non sei accorta Allora No no Vado dall'altra parte Perché comunque ci sono due parti di sopra Quindi Eh beh sì Controlla bene anche l'altra Ovvio Per me ci sono due possibilità Ok O hai sfruttato delle scale Diciamo in più No Per salire sopra qualcosa E hai fatto un qualcosa di particolare Oppure Sei andata sopra una statua Mmm No nessuna delle due Sicura Neanche la statua Fere E dove ci sto sopra Poi come sali sopra una statua Io ho notato Guarda Adesso ti faccio vedere Che è Facendo un po' di parkour E saltando così Allora secondo te Mi sta anche facendo dei complimenti In questo momento Beh L'ha inventato Luca Non l'ha inventato tu Sì ma come posso essere Capace io A fare dei parkour In quel modo Cioè spiegamelo Come sarebbe possibile Come sarebbe possibile Disse lei Vero Furfante No no ero nella statua Ero dietro uno scaffale Quello era uno scaffale Scondiglio Guarda che se siete Sì se tutto Lasciateci un like E se la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea Iscrivervi Per non perdervi Di altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao